buongiorno eccoci qua allora oggi vorrei parlare un pochino di amon allora intanto facciamo così questa lama ce la togliamo che sarà quella che dopo vi farò vedere un inizio di pulitura 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 chiamatela come vi pare insomma togliamo lo sporco dalla lama qui vi vorrei fare vedere due lame ora c'è la luce un po' bastarda vediamo forse qui sull'ombra si vede meglio ok due lame che ho fatto e allora intanto sono due acciai differenti sono due acciai differenti e si vede anche una finitura differente sulla parte superiore della lama guardate questa qui fa una specie di retinatura questa è 1095 sembra quasi un tessuto mentre il v2 un po sporca la lama è più liscia più più naturale mettiamola così come non si vede ha consumato questo effetto diciamolo da questo modo ci ha di differente che vedete la linea nera del 1095 è meno marcata meno contrastata rispetto questa del v2 altra cosa la forma della lama cioè su una lama così lunga più lunga insomma ho preferito fare un gioco di di curve più più in evidenza più marcate più alti e bassi perché su una lama lunga sono più belle si riescono a vedere qui ho lasciato invece una linea si frastagliata ma diciamo più più regolare senza tante curvature perché la lama è corta quindi mi sarei trovato a fare due o tre curve al massimo e esteticamente secondo me non era poi così il massimo quindi ho preferito fare questo tipo di lavoro lasciando una riga non diritta perché dritte le odio non le posso vedere ecco quando le fanno quelle col silicone però comunque diciamo ecco non troppo frastagliata perché avrei fatto due forse la terza curva e già ero e già ero al limite mentre invece ecco su una lama più lunga dove uno ha più curvature allora l'effetto secondo me è più bello ecco questo almeno è il mio parere poi ripeto sono solo pensieri ognuno cioè non c'è una verità ognuno la fa come crede sempre fatte in con la satanite io uso sempre satanite sulle lame per la protezione e fatte in forgia con spegnimento in olio rapido v35 il più rapido che che conosca per il momento e che secondo me è il più adatto detto questo andiamo a fare a questo punto la pulitura di una terza lama queste ce le spostiamo di qui che non ci servono e questa è la lama praticamente dopo l'acidatura tempra e acidatura quindi dovremo andare da qui a qui come vedete la portiamo quasi dal negativo perché praticamente la parte sotto della lama è più nera della parte sopra della parte più morbida e noi dovremmo fare praticamente andare a invertire e a riportare all'acciaio lucido la parte sottostante che altro vi dico niente questo vi dico cosa uso allora ruote di straccio non si usano mai mai e mai nemmeno all'inizio perché perché se voi andate ingrandire un acciaio vedete che sono tanti micro solchi tanti piccoli solchi se andiamo a lavorare con la ruota di stracci andiamo a chiuderli a tappare questi solchi con della pasta che anche se poi ci sembra di aver portato via in realtà una patina rimane e l'amon non sarà mai brillante quindi ruota di straccio anche se è più facile si lascia per altri lavori qui si lavora tutto esclusivamente a mano allora questo questo è importante ve l'ho detto vi dico cosa uso io allora uso normalmente questa è una pasta da carrozzieri macota brasil si chiama ne ho provate tante questo secondo me è la migliore perché riesce a portare via bene il nero ma non in maniera troppo aggressiva per il resto si usano stracci puliti un po' di strugli di come si chiamano quei quei tamponi di cotone che prego la moglie quando si strucca insomma non so per capirci comunque ora poi ve li faccio vedere ok tamponi struccanti questo è il primo passaggio poi successivamente si va con polvere al silicio è una polverina la usano anche credo nel legno per fare questa polverina qui al silicio bagnando la lama con una punta di olio VD40 cosa avete va bene e poi si usa quello se uno vuole rinforzare dare maggiore contrasto può usare anche come ultimo passaggio degli ossidi ci sono ossidi neri ci sono ossidi rossi non mi piacciono tantissimo a me sinceramente quello rosso in particolare sembra che arrugginisca la lama perché da questa sfumatura ramata rossastra che non mi piace quindi non ve lo consiglio comunque insomma poi fate cosa vi pare allora andiamo a posizionarci speriamo che riesca a farvi vedere qualcosa perché purtroppo lo sapete la lama non è un riflesso quindi in base a in base all'angolazione si può avere una cosa molto diversa magari mi sembra di farvi vedere un bel lavoro invece voi non vedete ne ammazza niente e mi scuso con voi allora intanto mi auguro che si veda la lama potrebbe essere già una bella cosa bene l'altra cosa che noi andiamo ad usare è il classico tamponcino che si usa per le satinature che ora vi farò vedere come lo uso praticamente metto allora apriamo la pasta così ve la faccio anche vedere la pasta è una pasta bianca di queste lucidanti da auto niente di che quindi classica pasta in questo modo qui andiamo a mettere allora il primo passaggio che faccio lo faccio su tutta la lama ovviamente la lama è stata satinata per il senso della lunghezza prima dell'acidatura prima prima di acidarla portata fino a grana 2000 e andrò a fare tutti i tipi di lavorazioni sempre sullo stesso verso quindi questo è importante allora mi metto un pochino di pasta allora fammi vedere qua qui abbiamo il nostro tampone bene prendo un po' di pasta di questa bianca sul dito ok e la spalmo sul tampone più o meno per la larghezza della lama in questo modo in questo modo dopodiché comincio a andare a dare qualche passata vedete come cambia subito e cominciamo intanto a vedere il disegno e renderci conto cosa dobbiamo fare guardate quanto sporco porta via cambiate spesso lo straccio portatelo sempre a pulito è bello questo qui mi piace vedete qui cominciano a vedersi anche dei piccoli disegni oltre alla curva principale che secondo me potrebbero far pensare a un bel lamon quando ora andiamo avanti ok questo è diciamo stacco il telefono perché non so se riesco a farvelo vedere bene quindi spero di sì sì si dovrebbe vedere ok questo è proprio il primissimo passaggio qui soltanto per capire e vedere cosa abbiamo sotto perché con il nero come vedete tante sfumature tanti piccoli disegni come questi qui non riuscivamo a vederli ora il nostro lavoro importante sarà quello sì di pulire la lama ma non fa sparire questi disegni che a me personalmente piacciono questi piccoli disegnini qua e cercare di andare ancora a evidenziarli ancora di più con uno straccettino e andando a lavorarci proprio intorno comunque ancora per il momento facciamo qualche passaggio sulla lama per portarla per togliere ancora un po' di ossidazione che ce ne ha abbastanza abbastanza sarà a fuoco speriamo quindi dopo una passata così data con lo straccio col tampone io mi fermo e comincio ad andare a lavorare a mano quindi mi sporco il dito così e comincio a andare a portare via l'ossidazione vedete aggiungo ogni tanto un pochino di pasta sulla linea cercate di non forzare troppo cioè cercate di stare qui sopra quando lavorate qui sotto la parte qui della linea bisogna poi dopo piano piano andarla a riprendere perché se io ci vado a strisciare direttamente sopra vado a indebolire la linea non è che la faccio sparire però non è più poi brillante come come voglio quindi intanto per ora lavorate il sopra lama e sotto vedete sempre in questa direzione perché la lama è stata satinata in questa direzione ora io vi faccio una cosa molto rapida perché in realtà poi qui il lavoro che viene fatto per portare la lama a brillare bene è un lavoro di diverse ore non è un lavoro però sinceramente diverse ore vi rompete un po' coglioni voi e sinceramente vi mangio tutta la connessione per fare i video quindi capite che quando avete capito quando avete appreso la tecnica poi dopo e vi muovete da soli spero come saprete tutti gli amon vengono fatti solo con carboniosi quindi inutile che ogni tanto qualcuno mi chiama e mi dice ma lo fai con linox? no non te lo faccio con linox? ma perché no? e non tutti i carboniosi solo qualche carbonioso permette di evidenziare l'amon quelli che a me piacciono di più sono il v2 e questo qui il 1095 non è che mi esalta tanto però e 125 sc prima c'era il 145 che aveva una trama spettacolare ormai introvabile vedete quanto sporco quanta morca si tira via si dice morca italiano o il toscano una morca vedete ancora sto lavorando molto sopra la riga non sto andando a fare le curvine le curvine le facciamo dopo come vi dicevo perché ora l'altra cosa che voglio fare è vedere anche il controfilo che risposta mi sta dando perché ancora non l'abbiamo pulito noi allora per fare questo facciamo così vedete sopra dobbiamo pulirlo qui sopra dovrebbero esserci qualche piccola curvatura di parti più dure e più morbide vediamo se si vedono e quindi inclino così si vede sempre marianna strega casino stessa discorso qui quindi una puntina una pasticchina di pasta la mettete sullo straccio la mettete qui insomma come come vi torna meglio e andiamo a dare una sgrossata a togliere il nero grosso e vediamo un po' cosa succede vedete la riga qui che praticamente riprende sopra ok puliamo la punta stando attenti a non piantarsela e rimettiamo su in pari allora quindi allora bene qui era come eravamo partiti questa è la parte della lama ancora non pulita come vedete tutte queste piccole righe non si vedono quindi nella prima fase di pulizia è importante per andare a scoprire cosa c'è sotto e poi successivamente decidere come evidenziarle andiamo a rendere più brillante il tagliente la parte sotto più dura anche qui un po' di pasta cominciamo vedete io comincio a lavorare seguendo un pochino il contorno andando sotto ovviamente fino al filo e seguendo però i contorni vedete non ci va da strisciare qui sopra ci striscio qui ci striscio di qua vedete vedete già come sporca meno il panno ora abbiamo già tirato via tanta roba quindi qui Grazie a tutti. Allora, la punta è sempre sporca, quindi qui ci andiamo anche con il tampone direttamente così. Allora, vediamo ora. Allora, proviamo un pochino a vedere se riesco a farvi vedere queste parti qua. Vedete, qui ancora ci sono dei disegni che dobbiamo andare a tirare fuori. Qui c'è una pallina che si lascia, qui c'è ancora una fiammatura, qui ce n'è un'altra. Noi dovremo quindi andare a lavorare piano piano senza fare sparire queste fiammature. Come vedete, ecco, così credo riesco a farvelo vedere bene. Vedete, io ho lavorato fino sopra la riga, infatti vedete che questa parte qui è più chiara. Questo pezzettino qui è più scuro perché non potevo andarla a riprendere perché sennò avrei mangiato le righe nere. Ora dovrò piano piano fare un lavoro di pulizia proprio di queste parti qui. Vedete? Questo sarà importante piano piano senza andare a mangiare le sfumature dell'amon. Quindi, per fare questo vi faccio vedere ora come si fa. Così poi dopo li fate anche voi. Spero, mi sarebbe piacere vederne qualcuno. Ci si è mosso tutto. Allora, prendiamo tamponcini. Tamponcino va bene anche questi. Continuate con lo straccio, uguale, insomma, non è che è importante avere il tamponcino. Andiamo uno per uno a lavorarli. strisciate e controllate di non portare via la riga nera. Ve l'ho già detto, non è non portare via, è sbaglio. Cioè, di non... Cioè, di renderla bella marcata, bella contrastata. Ecco, di non andare a ridurre il contrasto perché è la parte più bella e importante, quello che rimanga. Dopo magari si va fuori alla luce del solido che si vede meglio, eh. perché qui mi sa che... non so se riesco sinceramente a farvela vedere bene. Io spero che capiate cosa voglio fare. Grazie. 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 Fatto questo, in realtà dovrei andare ancora avanti, io ripeto, lo faccio un po' così per non stancarvi troppo e perché, insomma, però la tecnica è questa, voi andate avanti fino a quando vi piace, io ancora contento non sono, però insomma vi ho fatto capire insomma quali sono le cose che dovete fare. A questo punto andiamo a prendere la polvere di silicio, la polvere di silicio si fa così semplicemente, guarda, ci si dà una spruzzatina di olio sul panno, così, si va ad inzuppare il panno e si tira su la polvere di silicio. Sentite anche il suono, sentite che quasi fischia. Questo gli dà una finitura, per me l'ultima, ecco poi, ripeto, ci sono anche gli ossidi da utilizzare che a me però, personalmente, come vi dicevo, non mi piacciono molto. Però, vedete quanto nero porta via. Vedete quanto nero porta via. E così si continua, insomma, fino a quando uno non ha trovato il suo ammo, quello che più gli piace. Allora, vediamo se andiamo fuori, riesco a farvi vedere un pochino meglio il contrasto. Ripeto, ancora non siamo alla finitura completa, però, insomma, già così si comincia a vedere. Vedete che bel contrasto rimane sulla linea. Siamo riusciti a mantenere il disegno e a mantenere anche le sfumature. Vedete, per esempio, qui, non so se vi ricordate prima, si vedeva semplicemente una cosa meno definita di quello che è ora. Si comincia a vedere anche una piccola riga che va avanti. Qui vedete ancora la sfumatura. Bisogna riprenderla perché, vedete, non è netta. Si vede che sfuoca. E qui è da dove siamo partiti. Non si vede quasi niente. Questo è quello che era all'inizio, da così a così. Bene, io a questo punto qui penso di avervi detto quello che volevo dirvi oggi. E niente, quindi, fermiamoci qui. Se avete domande, come sempre, chiedete. Io continuo con i miei lavori e buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua e a presto. Ciao.